Sono molto contento che abbiano raccolto fino adesso 900.000 euro per la gente, donazione di privati, per la gente che ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni, tutto è nato da quello, e 170.000 per il giovane. Io di questa cosa qui, adesso molti mi criticheranno, sono molto, molto contento. 900.000 per il poliziotto, 900.000 euro per il poliziotto e oltre sicuramente, 170.000 euro per io non ho nulla contro quel giovane, ovviamente, ma la cagnara di hooligans e criminali che è stata scatenata da qualche giorno a questa parte ha bisogno solo di una parola, la parola molto semplice, repressione dura da parte dell'ordine e della polizia.